Si propone un confronto fra la valutazione dell'operazione di cartolarizzazione di sofferenze verso la Banca Monte dei Paschi di Siena, che la banca sta predisponendo, con il valore di trasferimento delle sofferenze presenti nei bilanci delle quattro banche avviate alla risoluzione del novembre 2015, in media 17,6% del valore lordo, successivamente ridefinito al 22,4%. I due casi non sono in alcun modo comparabili. Le quattro banche sono state sottoposte alla procedura di risoluzione, ai sensi della direttiva cosiddetta BRRD della Unione Europea e il relativo decreto di recepimento. Nel caso della procedura di risoluzione, ai sensi dell'articolo 42 della BRRD, la valutazione delle sofferenze ai fini della risoluzione deve essere effettuata sulla base dei criteri previsti dal BRRD, ma anche laddove, come nel caso in specie, sia previsto l'intervento del fondo di risoluzione nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Rileva a tal fine la comunicazione della Commissione Europea del 25 febbraio 2009. La valutazione derivante si discosta da quella utilizzata nelle ordinarie prassi contabili. La Commissione ha considerato accettabile una valutazione dei crediti deteriorati collateralizzati pari al 25% del valore lordo e di circa l'8% per quelli non collateralizzati. Ai sensi dell'articolo 36 della BRRD è necessario predisporre anche una valutazione definitiva delle attività e delle passività della banca, secondo i criteri indicati nella direttiva. La valutazione definitiva è stata predisposta ad esperti indipendenti, come prescritto, e ha rilevato un valore pari a circa il 22,4% del valore lordo. La vicenda del Monte dei Paschi di Siena è completamente estranea a scenari di risoluzione e di intervento del fondo di risoluzione o comunque di aiuto di Stato. Il piano complessivo che contempla il deconsolidamento del bilancio dell'intero portafoglio dei crediti di sofferenza è un aumento di capitale fino a 5 miliardi ed è completamente privato ed è stato discusso con l'autorità di vigilanza unica, alla quale competono tutte le relative valutazioni. In ogni caso non trovano applicazione i criteri annunciati in BRD o quelli previsti dalla comunicazione sulle attività deteriorate.